Ciao amici di FanTV, io sono Olivia, questa sera sono al pub San Martin in corso San Martino 0 ma andiamo a curiosare dentro cosa succede, seguitemi Ciao amici di FanTV, siamo sempre qui al pub San Martin, vediamo che succede, come ti chiami? Francesca Francesca, come mai sei qui? Che cosa sta succedendo? Siamo qui per festeggiare il suo compleanno Ti chiami? Federico Quanti anni compi? 20 Visto amici di FanTV, scegliete il pub San Martin anche per le vostre feste di compleanno Vi ricordiamo anche che qui al pub San Martin c'è anche un'area fumatori Vediamo cosa ne pensano i nostri amici Quanto è importante avere un'area fumatori al giorno d'oggi che non si può più fumare quasi da nessuna parte? Beh, è utile perché chi vuole fumare una sigaretta in un locale come si faceva una volta sicuramente nel San Martin può trovare un portacogliente quindi benvengano locali come questo e del genere Ciao Delia, questa sera volevo chiederti una piccola curiosità Che gente frequenta il pub San Martin? Sì, guarda, la nostra clientela è molto varia andiamo dai giovani fino alle famiglie con i bambini tutto questo chiaramente grazie all'ambiente adatto sia per chi vuole divertirsi che per chi vuole passare semplicemente una serata tranquilla in compagnia Che dire allora, amici di FanTV, vi aspettiamo al pub San Martin A correte numerosi!